Ciao a tutte, ciao a tutti, mando da qui, da casa mia, un grandissimo abbraccio a tutte le lettrici, a tutti i lettori di Ghirlande e, in modo particolare, alle lettrici e lettori di Patrie. Come sappiamo, l'incontro di mercoledì non si è potuto tenere, per le misure che conosciamo. Ne siamo molto dispiaciuti, ma innanzitutto siamo consapevoli che è indispensabile, è necessario e che rispettare queste misure farà sì che presto, presto ci riabbracceremo di persona, ci rivedremo come al solito, lettori in cerchio. Però dalla biblioteca ci è arrivata questa proposta molto, molto bella, che tante realtà stanno facendo, cioè di sentirci così, via social, mandare un abbraccio di qualche minuto, ma sentito, sincero e vicino. Io, in modo particolare, come dicevo, lo mando alle lettrici e ai lettori di Patrie. Noi che abbiamo scelto un tema che è distante da questo, il tema è quello della patria negata, della patria tormentata, dei popoli che non hanno una terra o a cui viene tolta, quindi distante da questa situazione di attuale pandemia. Però, in realtà, poi elementi su cui ragionare, elementi comuni ci sono, come sempre, i libri offrono sempre questo, i romanzi in modo particolare offrono questo, cioè spunti di riflessione che si riflettono in quello che viviamo quotidianamente. E mi viene in mente un passo di Eureka Street, che è il romanzo di Robert McLean Wilson, che avremmo commentato insieme mercoledì scorso e che invece commenteremo ad aprile. A metà del libro c'è un episodio fondamentale, che è quello di una bomba. Una bomba esplode, siamo nell'Irlanda del Nord, che vive il periodo del terrorismo. La reazione che le persone hanno viene descritta nel libro. Molto bene, l'autore è veramente molto bravo. Descrive l'esplosione e poi descrive come le persone ne vengono a conoscenza e quali sono le loro reazioni, passando in rapida carrellata a diversi dei personaggi del libro, dai protagonisti, a comprimari, a figure terze. Vediamo persone di Belfast, che quindi in qualche modo purtroppo sono abituate, brutto usare questo termine, però hanno consuetudine a quel tipo di violenza, ma ne restano ugualmente sconvolti. e persone invece che provengono d'altrove, inglesi, americani. E quindi si vede un po' la reazione di ciascuno e poi descrive anche la sera, la sera dopo la bomba, l'autore, il ritiro sociale, le persone che stanno in casa, la paura dell'immediato e poi anche dei giorni successivi, le persone che se si radunano in capannelli parlano di quello che è accaduto sottovoce, c'è anche, paradossalmente, c'è anche le risse, sono meno in quel momento, perché è come se tutto fosse stato fermato. Ripeto, la situazione è completamente diversa da quella di attuale pandemia, ci ricorda piuttosto altri episodi del recente passato, però quello che è interessante è il modo in cui Wilson descrive la reazione sociale, la reazione delle persone e anche il rapporto tra esterno-casa, cioè il fatto che le persone si ritirino in casa, non perché viene loro ordinato in quel caso, ma per paura. E quindi abbiamo elementi su cui riflettere, un episodio di cui certamente avremmo parlato mercoledì, di cui certamente parleremo quando ci vedremo ad aprile per raccontarci, per chiacchierare insieme di questo libro, però appunto un punto di contatto c'è, proprio nella reazione che la società ha, che tutti quanti hanno a quella situazione, e così anche noi adesso, perché quello che innanzitutto ci fa riflettere, dopo la questione sanitaria che è primaria, però l'altro elemento su cui tanto riflettiamo è proprio i rapporti sociali. Che cosa succede, qual è la reazione di tutti noi come società a quello che sta succedendo, dalle reazioni di panico, alle reazioni invece di contenimento, dalle reazioni più consapevoli. Quindi insomma, ancora una volta i libri si dimostrano un patrimonio meraviglioso, perché ci danno spunti infiniti di riflessione, quindi quando ci rivedremo insieme ad aprile parleremo anche di questo, quindi di quello che i libri dicono a noi, di quello che noi diciamo ai libri, nel senso di come li leggiamo, di come li interpretiamo, a seconda del momento in cui viviamo. Tanti di noi questo libro lo avevano letto, quindi magari, quindi ora si sono trovati a rileggerlo, e sarà anche interessante vedere questo, cioè come è stato riletto, alla luce di quello che sta succedendo in queste settimane. I gruppi di lettura sono preziosissimi, quindi sono contenta di avervi potuto salutare da qui, ci rivedremo tutti quanti insieme prestissimo, e per parlare di questo e di tanto tanto altro, ci rivedremo ancora più contenti di essere insieme, sappiamo sempre che Ghirlanda è un momento prezioso, e quando ci rincontreremo lo sapremo ancora ancora di più. Un caro caro saluto, un grandissimo grandissimo abbraccio, ciao!